Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Sitin dalle 15, questo pomeriggio a Viale Trastevere, un presidio di protesta che si radunerà sul largo Bernardino da Feltre davanti al Ministero dell'Istruzione. Possibili rallentamenti per il traffico, comprese le linee bus in transito, gli aggiornamenti si potranno seguire anche sul sito romamobilità.it. In tema di proteste, questo venerdì torna la mobilitazione per l'ambiente con migliaia di attivisti che nelle città di tutto il mondo parteciperanno al primo sciopero dell'anno per il clima. A Roma al mattino sfilerà un corteo da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni. Saranno chiuse al traffico Viale Naudi, Piazza dei Cinquecento, Via Cavour, Piazza dell'Esquilino e Piazza di Santa Maria Maggiore, Via Merulana, Viale Manzoni e Via Emanuele Filiberto. E questo per il passaggio del corteo. 30 linee del trasporto pubblico saranno deviate. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.